Carissimi amici del canale YouTube, dentro la notizia, alcune fonti affermano con certezza che Trump abbia già firmato l'insurrection act e investito di speciale autorità il generale Flynn, che in seguito verrebbe nominato vicepresidente. Nel corso di questo video cercheremo di capire, dopo aver preso visione delle fonti più attendibili, cosa c'è di vero e cosa no. Prendiamo in considerazione un noto giornale mainstream, The Sun, che ieri titolava Incapace di mantenere l'ordine pubblico, Trump dichiarerà la legge marziale? La legge marziale è definita da Merriam-Webster come la legge amministrata dalle forze militari invocata da un governo in caso di emergenza quando le forze dell'ordine civili non sono in grado di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici. È stata dichiarata 68 volte negli Stati Uniti, con 29 dichiarazioni pervenute durante controversie di lavoro, secondo il Brennan Center for Justice. Il governo federale non ha dichiarato la legge marziale da quando ha ripristinato il governo civile all'Hawaii nel 1944. La legge marziale fu dichiarata l'ultima volta a livello statale nel 1963, quando il governatore del Maryland, Millard Davis, la impose alla città di Cambridge in relazione alle rivolte razziali. Cosa ha detto Trump sulla dichiarazione della legge marziale? A dicembre è stato rivelato che l'ex consigliere per la sicurezza nazionale, Michael Flynn, avrebbe spinto il Presidente a usare i militari per ripetere le elezioni. Si ritiene che Trump e i suoi consiglieri abbiano anche discusso di requisire le macchine per il voto e di nominare Sidney Powell come consulente speciale per ispezionarle. Notate anche cosa afferma The News International, titolando «Trump pensa alla legge marziale negli Stati Uniti». L'ex segretario alla difesa degli Stati Uniti, Chuck Hagel, ha affermato durante il suo mandato, ma soprattutto da quando ha perso le elezioni a novembre, il Presidente Trump si è dimostrato pericolosamente irregolare e instabile, parlando con i consiglieri di invocare l'Insuration Act e dichiarare la legge marziale per ripetere le elezioni. E provocando i suoi sostenitori in quella scena spudorata che abbiamo visto al Campidoglio questa settimana, ha detto. Riflettiamo su questo. Perché il Presidente Trump potrebbe essere costretto ad invocare l'Insuration Act? Russian Today ci aiuta a comprendere che questo è proprio ciò che teme la Pelosi, titolando «Pelosi minaccia Pence con un ultimatum di 24 ore per dichiarare Trump incapace prima che i democratici avvino il processo di impeachment». La Camera, a maggioranza democratica, voterà una risoluzione in cui si chiede al Vice Presidente Mike Pence di invocare il 25esimo emendamento, concedendogli 24 ore per rispondere, prima di procedere con l'impeachment del Presidente Trump. Se non riceviamo il consenso unanime questa legislazione dovrebbe essere portata in aula il giorno successivo. Chiediamo al Vice Presidente di rispondere entro 24 ore. Successivamente procederemo con la presentazione della legislazione sull'impeachment. Evocando l'orrore dell'assalto in corso alla democrazia statunitense e alla Costituzione sulla scia dell'assedio del Campidoglio, Pelosi ha esortato i legislatori ad agire con urgenza perché questo Presidente rappresenta una minaccia imminente per entrambi. In ogni caso i democratici sono determinati a offuscare il più possibile l'eredità di Trump e a impedirgli di candidarsi nuovamente alla Presidenza nel 2024. Ora ci domandiamo il perché di tanta fretta e di tanto accanimento. Mancano solo nove giorni alla scadenza della Presidenza Trump. Perché anche il senatore Dem Chuck Schumer chiederebbe di invocare il 25esimo emendamento? Perché la Pelosi, Schumer e altri del Deep State vorrebbero che Trump fosse rimosso dall'incarico? Con così poco tempo rimasto non vi sembra strano? Dopotutto Joe Biden è adesso il Presidente eletto. Ha uno status ufficiale. Per quale motivo si vuole continuare a perseguitare Trump? Potrebbe esserci una ragione per questo. La ragione è che ci sono tutti i motivi per invocare l'Insurrection Act e se Trump non lo invoca, anticipando quanto il Deep State ha in mente di fare, per lui è finita. Ed è finita anche la democrazia. La cupola instaurerà la dittatura del nuovo ordine mondiale, tramite il Great Reset. Ma Pence invocherà il 25esimo emendamento? Sì, se è un traditore. Lo invocherà senza dubbio alcuno. Ecco il motivo per cui Trump deve ricorrere alla legge marziale. Leggiamo parte di quest'altro articolo. Pence parteciperà all'inaugurazione di Biden senza escludere il 25esimo emendamento. Secondo una fonte vicina a Pence parteciperà all'inaugurazione del Presidente eletto Joe Biden. Biden ha confermato che sarebbe stato onorato di avere Pence lì. Nel frattempo una fonte vicina a Pence ha affermato di non aver escluso l'utilizzo del 25esimo emendamento per rimuovere il Presidente Trump. La persona ha detto che Pence lo stava tenendo come opzione nel caso in cui Trump diventasse più instabile. La fonte ha detto che alcuni membri del team di Pence temono che il tentativo di rimuovere Trump possa spingerlo a mettere in pericolo avventatamente la nazione. Riflettiamo su queste ultime parole della fonte vicina a Pence. Temono, ovviamente il Deep State teme, che il tentativo di rimuovere Trump spinga il Presidente a mettere in pericolo avventatamente la nazione, ovvero temono per loro stessi. Ma quale mossa avventata temono? L'insurrection art. Una legge marziale che venga a prendere i responsabili del complotto e di altri gravissimi reati. Un altro aspetto su cui vorrei riflettere con voi è il contenuto del laptop della Pelosi. Un portavoce della Presidente della Camera, Nancy Pelosi, ha affermato che un laptop è stato rubato nel caos del Campidoglio il 6 gennaio. Era un laptop che veniva utilizzato solo per le presentazioni, ha scritto il portavoce di Pelosi, Drew Emil, in una dichiarazione del 10 gennaio. Ma aveva veramente solo contenuti così innocui? E come mai tutta questa urgenza di recuperarlo e di rendere inoffensivo Trump, scomodando anche le FBI? Leggiamo ancora. Il capo dell'ufficio amministrativo della Camera ha detto che l'ufficio ha emesso comandi per bloccare laptop e computer e chiudere l'accesso alla rete cablata. Quindi qualche contenuto scomodo forse c'era. Ma non è finita qui. Continuiamo a leggere. Un giornalista di The Blaze ha pubblicato una fotografia di quello che si presumeva essere un computer dell'ufficio di Pelosi con le mail ancora sullo schermo. Come abbiamo riferito in precedenti video, le mail della Pelosi erano ancora aperte sul monito del computer quando il personale è uscito di fretta abbandonando gli uffici a causa dell'invasione dei manifestanti. E chissà, in certe mail, cosa poteva esserci scritto? Non dimentichiamo che sia Biden che la Pelosi sono così sfrontati e sicuri di sé d'aver fatto delle incredibili ammissioni nei giorni prima delle elezioni. Per cui non ci dovremmo assolutamente meravigliare che alcuni dati sensibili fossero un QAPC, comunque accessibili solo a chi aveva accesso ai locali e alle password. Un altro aspetto su cui riflettere è la dichiarazione di Trump del 7 gennaio, che ha deluso molti. Il presidente ha affermato una nuova amministrazione sarà inaugurata il 20 gennaio. In realtà Trump non ha mai riconosciuto Biden come legittimo vincitore delle elezioni e ha affermato che una nuova amministrazione verrà insediata, non un nuovo presidente, né tantomeno Biden. Non solo. Qualche ora dopo, ma prima di essere bandito da Twitter, Trump ha scritto che ai suoi 75 milioni di sostenitori non verrà mancato di rispetto e non saranno trattati ingiustamente in alcun modo o forma, descrivendoli come patrioti. Cosa vuol dire secondo voi? Come gli elettori di Trump potrebbero essere trattati giustamente? Con l'insediamento di Biden? Non credo proprio. Almeno questo è il senso delle sue parole, delle parole di Trump, che hanno deluso alcuni, ma si trattava di comprendere correttamente. D'altra parte non potete immaginare che di fronte ad avversari così temibili Trump giochi a carte scoperte, rivelando in anticipo quel che intende fare. Ci potremmo domandare ora se nel caso Trump imboccasse l'insurrection act i militari sarebbero con lui? Risponda a questa domanda un articolo del New York Times dell'8 gennaio. Leggiamo. In una telefonata al presidente, il generale Mark Milley, la signora Pelosi sembrava voler chiedere alla leadership del Pentagono di rimuovere sostanzialmente Trump dalla sua autorità come comandante in capo. Ciò potrebbe essere ottenuto ignorando gli ordini del presidente o rallentandoli, chiedendosi se fossero stati emanati legalmente. Ma il generale Milley sembra non aver preso impegni. Alcuni funzionali del Dipartimento della Difesa si sono chiaramente risentiti per la richiesta di agire al di fuori dell'autorità legale del venticinquesimo emendamento. Hanno detto che il signor Trump è ancora il comandante in capo. A meno che non venga rimosso, l'esercito è tenuto a seguire i suoi ordini legittimi. Mentre i funzionali militari possono rifiutarsi di eseguire ordini che considerano illegali o rallentare il processo inviando quegli ordini per un'attenta revisione legale, non possono rimuovere il presidente dalla catena di comando. Ciò equivarebbe a un colpo di stato militare, hanno detto i funzionari. Un aiutante militare con la valigetta nucleare contenente i codici di lancio è sempre a pochi passi dal presidente. Ma legalmente i militari non possono negare al presidente l'accesso ai codici, a meno che il venticinquesimo emendamento non sia stato attivato. Quindi finché Trump è il presidente degli Stati Uniti, l'esercito è con lui e ubbidirà fedelmente nel caso venga invocato l'Insurrection Act. Ma nonostante ci siano molte voci in rete che affermano che il presidente ha firmato l'atto di insurrezione due sere fa, questo non è vero. In primo luogo un presidente non firmerebbe la legge, ma invocherebbe l'atto. È già legge, quindi non c'è niente da firmare. Un presidente o lo invoca o non lo fa. Ma a differenza di quanto affermato da Simon Parkes, al momento fonti della comunità dell'intelligence riferiscono che il presidente non ha ancora invocato l'Insurrection Act. In questa corsa contro il tempo, dove chi fa la prima mossa ha vinto, Trump parte avvantaggiato. Riuscirà a infliggere un duro colpo al Deep State? Vedremo. Prima di concludere, volevo ringraziare gli amici della Bife International, una delle innumerevoli piccole e medie aziende del Made in Italy di successo, che consiglia Prendac2, il primo integratore che associa in un'unica soluzione quattro vitamine fondamentali, vitamina D3, A, K2 e vitamina C. Queste vitamine insieme contribuiscono al corretto funzionamento del sistema immunitario e all'attivazione del ciclo del calcio, che è fondamentale per la salute delle ossa e del sistema cardiovascolare. La Bife, quando ha saputo che YouTube ci ha privato degli introiti pubblicitari e degli abbonati, ha deciso di dare anch'essa un contributo a favore della libertà di tutti gli italiani. Carissimi amici del canale YouTube, dentro la notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate con le vostre donazioni la libera informazione a tutela del popolo. Senza il vostro aiuto, di cui vi siamo profondamente grati, non potremo crescere e migliorare il nostro servizio informativo. Chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in descrizione. Grazie ancora del vostro sostegno e per la condivisione dei video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Roby